Quando vai a una festa, quando il lupo rosso va a una festa si scatena, grida, scherza, corre, fa benissimo, le feste sono fatte apposta, ma se esagera si diverte solo lui, e questo non è giusto. Una festa riuscita è quella in cui nessuno si sente tagliato fuori dal divertimento generale, quindi il padrone di casa non deve pretendere di essere sempre al centro dell'attenzione, e gli invitati devono collaborare al successo, anche per sapere, separare, sperare di essere invitati in un'altra occasione, e non dimenticare che alla prossima festa potrebbe essere il tuo turno di finire attaccato al palo. E quando c'è una festa, se ricevi un regalo, ringrazia sempre, anche se non ti piace, anche se l'hai già. Non è una buccia dire grazie a chi è stato gentile con noi. Se ti capita di perdere un gioco di società, non offenderti, non rattristarti, non tenere il muso, anche il ruolo del perdere può essere divertente. Non dimenticare che la casa che ti ospita non è una palestra, e i genitori di chi ti ha invitato sono meno pazienti di un istruttore di ginnastica. Grazie! Grazie! Grazie!